Sangue sulla strada, tra eboli e battipaglia. Questa mattina, nella zona industriale tra i comuni della Piana del Sele, un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto mentre era in sella alla sua bici. La vittima è un extracomunitario che guidava una bicicletta elettrica. Tanti e numerosi i cittadini non italiani che a qualsiasi ora del giorno e della notte percorrono le strade con quei veicoli, spesso non ben segnalati. Sulle dinamiche dell'incidente mortale stanno indagando i carabinieri della locale stazione che dovranno ricostruire quanto accaduto. Non è da escludere che verranno utilizzate le registrazioni delle videocamere di sorveglianza attive sui luoghi per far luce su quanto successo.